Sette punti di sutura ed una prognosi di 15 giorni. Il polizzotto ferito nella notte durante l'inseguimento di due banditi a Villatora di Saunara è stato dimesso in mattinata. L'aguato dei criminali durante un appostamento nel parcheggio di via Bolzano. Qui i banditi hanno abbandonato un'auto rubata e stavano per salire a bordo di un'altra. Gli agenti che stavano monitorando i loro movimenti hanno cercato di bloccarli. Il polizzotto ferito ha aperto la porta della vettura cercando di arrestare il conducente che invece è ripartito trascinandolo per qualche metro. I malviventi hanno finito la propria corsa contro un albero, poi sono fuggiti a piedi. Uno dei due è stato arrestato dagli uomini della squadra mobile. Si tratta di un albanese di 20 anni, Raldo Preni, mentre caccia il complice. I poliziotti hanno esplosito nel corso dell'inseguimento due colpi di pistola in aria a scopo intimidatorio. Farebbero parte, i due malviventi, di una banda di ladri di appartamento. L'agente ferito si era già distinto quest'estate quando in borghese fuori servizio riuscì a sventare una rapina manormata in un supermercato a Palermo. Anche l'albanese fermato si è levemente ferito nel tentativo di scappare. Ha scavalcato una recinzione provocandosi dei tagli all'inguine.